E appena che il Signore parlò a mio padre, sì, in sogno, e gli disse, Beh, adesso sei tu, lei, a motivo delle cose che hai fatto, e poiché sei stato fedele e hai proclamato a questo popolo le cose che io ti ho comandato, ecco, essi cercano di toglierti la vita. E avvenne che il Signore comandò a mio padre, sì, in sogno, di prendere la sua famiglia e di partire inoltrandosi nel deserto. E avvenne che egli fu obbediente alla parola del Signore, pertanto fece come il Signore gli aveva comandato. E avvenne che egli si inoltre nel deserto, e lasciò la sua casa, la terra della sua eredità, il suo oro, il suo argento e le sue cose preziose, e non perse nulla con sé, salvo la sua famiglia provviste e tende, e si inoltre nel deserto. E scese lungo i confini presso la riva del Mar Rosso, e viaggiò nel deserto entro i confini che sono più vicini al Mar Rosso, e viaggiò nel deserto con la sua famiglia, che consisteva di mia madre, Saria, e dei miei fratelli, maggiori che erano Laman, Lamwe e Sam. E avvenne che, quando ebbe viaggiato per tre giorni nel deserto, egli piantò la sua tenda in una valle presso la sponda di un fiume d'acqua. E avvenne che costruì un altare di pietre, fece un'offerta al Signore, e rese grazie al Signore nostro Dio. E avvenne che diede a quel fiume il nome Laman, ed esso si gettava nel Mar Rosso, e la valle era ai confini presso la sua foce. E quando mio padre vide che le acque del fiume si gettavano nella distesa del Mar Rosso, parlò a Laman, dicendo, «Oh, possa tu essere come questo fiume, e scorrere continuamente verso la fonte di ogni rettitudine?» E parlò anche a Lamwele, «Oh, possa tu essere come questa valle, fermo e perseverante e incrollabile nell'obbedire ai comandamenti del Signore?» Ora, egli disse ciò a casa della caparvità di Laman e Lamwele, «Poiché ecco essi mormoravano, per molte cose, contro il loro padre, perché era un disenario e li aveva condotti fuori dalla terra di Gerusalemme, per abbandonare la terra della loro eredità, il loro oro, il loro argento, e le loro cose preziose, per ferire nel deserto. E avvenne, avendo fatto questo, essi dicevano, per le assurde immaginazioni del suo cuore. E così Laman e Lamwele, che erano i maggiori, mormoravano contro il loro padre, e mormoravano perché non conoscevano le vie di quel Dio che li aveva creati, neppure credevano che Gerusalemme, la grande città, potesse essere distrutta secondo le parole dei profeti, ed essi erano come i giudei, che erano a Gerusalemme, che cercarono di togliere la vita a mio padre. E avvenne che mio padre parlò loro nella valle di Lemuele, con potere, essendo riempito dello spirito, finché essi tremarono in tutto il loro corpo in sua presenza, ed egli li confuse, cosicché non osarono più proferire parola contro di lui. Pertanto essi fecero come egli comandò loro. E mio padre dimorava in una tenda, e avvenne che io, Nefi, essendo molto giovane, tuttavia alto di statura, e avendo anche il grande desiderio di conoscere i misteri di Dio, invocai pertanto il Signore. Ed ecco egli mi visitò, e intendi il mio cuore, cosicché credetti a tutte le parole che erano state dette dal mio padre. Pertanto non mi ribellai contro di lui come i miei fratelli, e parlai a Sam, facendogli conoscere le cose che il Signore mi aveva manifestato per mezzo del suo Santo Spirito, e avvenne che egli credette alle mie parole. Ma ecco, l'Amana e l'Amuele non vollero dare ascolto alle mie parole. E io, essendo addolorato per la durezza del loro cuore, alzai per loro la mia voce al Signore. E avvenne che il Signore mi parlò dicendo, «Benedetto sei tu, Nefi, a motivo della tua fede, poiché tu mi hai cercato diligentemente, con umiltà di cuore, e in quanto che voi obbedirete ai miei comandamenti, prospererete e sarete condotti a una terra promessa, sì, proprio una terra che ho preparato per voi, sì, una terra che è scelta sopra di tutte le altre terre, e in quanto che i tuoi fratelli si ribelleranno contro di te, essi saranno recisi dalla presenza del Signore. E in quanto che tu obbederai ai miei comandamenti, sarai fatto governatore e insegnante sui tuoi fratelli, poiché ecco, nel giorno in cui essi si ribelleranno contro di me, io li maledirò, sì, con una grave maledizione, ed essi non avranno alcun potere sulla tua posterità, a meno che essi pure si ribellino contro di me. E se accadrà che si ribellino contro di me, essi saranno un flaggello per la tua posterità, per spronarli sul cammino della rimembranza.